non se ne frega mi è il progetto se la puttana io rinuncio tutto e nido solermo vaffanculo io lo lascerò mai vaffanculo ma non ci vedo è uscito davvero? giuro lo sto vedendo oh, oh, chi l'ha preso? no, io ancora devo e lo lascio guarda, guarda guarda, guarda guarda, guarda alzo tutte le statistiche tranne di fissino ma che cagata è? perché? minchia però è devastante no, anche da trollder suka, quello da DD ha detto quando switch DD e tank minchia è devastante però come sapesse da tank da DD che ce l'ha oh, chi lo sta? guarda, è Mosovia lui, guarda guarda, non lo so, non lo so no, vabbè, va no, dai, non è possibile ma fa qualcuno, il random faccio cioè, gliel'abbiamo fatto dai, avevo unidato per 85 ma, faccio ma gli abbiamo fatto fare le fitte ha unidato per 99 ha unidato 99 che schifo che schifo io, rigati che schifo non mi che è colpa sua ma sì, dai, no, vaffanculo deve morire dai, cazzo era mio 85 ma vaffanculo ma che cazzo il gioco di merda per una volta che avevano i dati più di tutti sto stronzo random ma vaffanculo si sa, si sa, si sa quando c'è un random di mezzo vince ma forza è random